Io con la Pixar ho fatto, sì credo che questo sia il terzo film, il doppiaggio io lo adoro, io ho iniziato anche nel doppiaggio con Glamo Don Morato che era un bravissimo attore, un doppiatore eccezionale, anche un lettore di doppiaggio e ho questa passione perché poi il doppiaggio non tutti lo amano, soprattutto gli attori. Io invece lo amo perché a parte che per me è un'assessante ma poi aiuta molto spesso invece una volta che fai un film a sistemare qualcosa che non è venuta, poi hai la completezza di un film quindi puoi ritornare anche a doppiare una scena che magari è passata così inosservata o non è venuta come doveva venire quindi è un arricchimento, è una possibilità di arricchire. Mi piacciono molto i film ad animazione quindi è stato un onore fare Cars, sia uno che due ed è stato bellissimo fare questo ruolo di laurea che è la mamma dei due protagonisti e quindi è stata un'esperienza per me ottima.